Dai, ci sei? Eccoci qua, dai! Visto? L'ascensore di fiamma. Suche, la festa del vaguino. Sessore di La F climate. Subtitling in Sarkovia Un bel pomeriggio, un bel pomeriggio. Nelio non c'è un bel pomeriggio, un bel pomeriggio. Nococco, il dolore è un bel pomeriggio. Siamo Sareco. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.